Antonio Maria Granieri è 17 anni e vive a Vigonza. Francis Fernando Praven ha la stessa età. Di origine cingalese, nato a Pove del Grappa, ma è seminarista a Padova. Studia l'eceoclassico Barbarigo, fa volontariato all'opera della Providenza di Rubano. Ragazzi sorridenti, puliti, giovanissimi cittadini, con un senso civico e del bene comune così alto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di nominarli con altri 26 coetanei e alfieri. Un onore per la città di Padova e per il Centro Servizio Volontariato che aveva segnalato questi due ragazzi che ben hanno saputo interpretare lo slogan Ricuciamo il Paese lanciato un anno fa in occasione dell'inaugurazione di Padova, capitale europea del volontariato. Lui dice oggi Ricuciamolo insieme a tanti testimoni, compresi questi due giovani ragazzi che ne sono un esempio. Tutti i 30 sono molto impegnati nel volontariato, i 30 che sono appena stati nominati. Ci dice che forse questi saranno anche i futuri costruttori. Ma chi sono Antonio Maria e Francis? Antonio Maria fa parte dell'associazione Down Dadi, si occupa del bene degli altri e desidera la felicità dei suoi amici. Il suo sogno è quello di diventare un supereroe della bontà. Da Presidente dell'associazione, Patrizia Tolotte, felice perché Antonio non è stato premiato per il fatto di essere down, ma per il fatto di essere buono. Capace di ascolto, impegnato nell'aiuto degli anziani, dei più poveri, delle persone con disabilità, ospiti dell'OPSA di Rubano, ha anche Francis. Un sorriso aperto che non lascia dubbi, una carezza per chiunque lo incontri.